dissetante senza alcol questo moctel è proprio quello che mi serve per un happy hour da veri professionisti dell'alimentazione ebbene sì moctel è il termine moderno a cui fa riferimento un cocktail senza alcol e oggi ve lo propongo con un ingrediente magico ovvero con la rapa rossa scoprite l'idea iniziamo con la preparazione di questo moctel del benessere allora questa è la nostra barbabietola rossa ok che io mi sono già portata avanti ovviamente ho tagliato a pezzettini questo il risultato la barbabietola è eccezionale perché è ricca di ferro calcio sodio potassio magnesio fosforo insomma vanta proprietà rimineralizzanti e poi anche ricca di vitamina b1 vitamina b3 e c'è anche della vitamina a e vitamina c insomma una bomba di vitamine e sali minerali adesso qui ho preparato un estrattore quindi dobbiamo togliere il succo con l'estrattore ovviamente va bene anche la centrifuga però in questo caso vi consiglierei un pochettino di più l'estrattore versiamo i pezzettini di barbabietola all'interno poi azioniamo la nostra macchina possiamo aggiungere anche qualche pezzettino di zenzero non troppo aromatizziamo anche con qualche fogliolina di menta come potete notare da una parte si raccoglie la fibra non buttatela però e mi raccomando con questa potete realizzare delle polpettine magari anche delle polpettine crudiste che non è niente male davvero quindi la nostra pseudo o cara di rapa vi ricordate lo cara originale quella estratta dalla soia per pulire la macchina chiamiamolo così quindi per togliere tutto il residuo di succo che si è fermato all'interno possiamo versare un po di soda che poi finirà all'interno del nostro succo prezioso di barbabietola un piccolo trucchetto una piccola astuzia alimentare per aumentare l'assorbimento del ferro contenuto all'interno della barbabietola utilizziamo anche un po di succo di limone e così migliorerà anche il sapore il nostro mocktail del benessere è pronto questo mocktail è un cocktail della salute a tutti gli effetti trasformate il vostro happy hour in una coccola da dedicare a voi stessi e magari anche da condividere con i vostri più cari amici voilà e poi una fogliolina di menta anzi un bel rammetto di menta se volete potete anche aggiungerci un po di ghiaccio ovviamente la prova dell'assaggio super provatelo anche voi ragazzi sappiatemi dire io vi aspetto sempre qui a su my personal trainer ciao ciao